ciao come state tutto bene mentre scende la neve io sono qui per dirvi che sono tornata e bene si dopo una piccola operazione al gomito sono ritornata intanto per darvi appuntamento a martedì prossimo quando ormai entreremo nella settimana veramente pre natalizia al massimo e dove quindi chiacchiereremo del natale dei tanti cenoni che andrete a fare se lo farete se cucinerete voi e che cosa magari avrete scritto nella letterina ma il diciamo così il mio saluto e anche per dirvi che come ogni anno stiamo raccogliendo i saluti dei nostri amici di trs radio di chi ci segue e voi insomma ne fate parte ogni martedì mattina dicevamo gli auguri che inseriamo a fine anno in un programma che ci traghetta praticamente dal 2022 al 2023 per cui vi chiedo se avete voglia di essere anche voi protagonisti con i vostri saluti della nostra trasmissione di mandarli al nostro whatsapp 331 126 5959 basterà un audio semplice 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 in bianco noi lo monteremo con quello che sono le classiche canzoni natalizie e il tutto insomma verrà appunto dicevo mandato in onda la notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio so che sarete in tanti ma sì una bella cosa di condivisione di comunità come ci raccontiamo sempre al martedì mattina la cosa è molto semplice 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 quindi non dovete far altro che schiacciare il bottone del whatsapp e dire ciao ad esempio facciamo l'esempio ciao sono simona e auguro a tutti gli amici di trs radio un buonissimo fine anno e un buon inizio 2023 è una cosa del genere va benissimo poi spazio la vostra fantasia e poi lasciate andare il messaggio e lo inviate al 331 126 5959 che è il nostro whatsapp della radio spero di sentirvi presto di avere tanti vostri messaggi di auguri e naturalmente così condividere e chiudere un anno che è stato bello insieme ogni martedì ma comunque martedì ci rivedremo per parlare ancora una volta di natale ancora una volta il rosso ma ancora una volta insomma con la speranza che quello che scriviamo nella letterina possa essere tanta serenità e che ci possa portare un buon 2023 vi aspetto è come sempre alle 9 30 martedì ma aspetto i vostri vocali con i vostri auguri per gli amici di trs radio al 331 126 5959 un bacio grande ciao